nuovo appuntamento con salvano amico del canile della val basca di como con me c'è paola davide e saul conosciamo insieme saul quali sono le sue caratteristiche allora saul è un cane molto giovane di circa un anno è stato accalappiato più o meno un mese fa nelle zone della val di quintelvi ed è arrivato appunto da noi è un cane molto esuberante quindi bisogna avere molta forza però è bravissimo quindi non ha problemi in particolare è un cane giovane come si comporta il guinzaglio è un cane che non non ama gli altri cani diciamo quindi per una futura adozione è meglio una famiglia senza altri cani una famiglia possibilmente non con bambini piccoli perché appunto lui è molto esuberante e anche senza volerlo potrebbe fare male però per il resto si adatta molto tranquillamente a tutto per quanto riguarda gli spazi meglio un appartamento una casa con giardino entrambi allora sicuramente più spazio c'è meglio è le passeggiate come con tutti gli altri cani comunque non devono mai mancare quindi indipendentemente dallo spazio lui ha molto bisogno di sfogare le energie e uscire molto quindi è indicato poterlo portare fuori molto spesso esatto una famiglia che possa dedicargli tanto tempo come si comporta con gli altri animali allora appunto con i cani ha qualche difficoltà quindi bisogna avere molta pazienza e potrebbe essere meglio quindi una famiglia senza altri cani e altri animali è da testare quello sicuramente speriamo ovviamente che il nostro saul trovi presto una nuova casa e una famiglia con cui vivere questa puntata di salva un amico termina qui grazie per averci seguito e al prossimo appuntamento per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il canile della valbasca al numero 031 54 29 26 oppure inviare un'e-mail a canile valbasca chiocciola gmail.com